Mi piacerà nei prossimi anni essere umile, piccolo operaio, piccolo protagonista di un rinascimento che veramente se ci crediamo, se tutti faranno la loro parte, se quelli che dicono sì ogni tanto alzeranno la voce per non lasciare che il palcoscenico sia in mano solo ai professionisti del no, vedrete che l'Italia nei prossimi anni non solo, come sta facendo adesso, crescerà più di Francia e Germania, come dicono i dati del PIL di questo trimestre, ma tornerà a essere la locomotiva d'Europa e io ne sono assolutamente convinto.